Qualche giorno fa abbiamo parlato del leading economic indicator e visto che non sta dando segnali particolarmente incoraggianti in molti ci avete chiesto ma come ragionare nei prossimi mesi come impostare o verificare la propria strategia di investimento e per quanto ogni volta che facciamo un video relativamente ad approfondimenti economici finanziari ricordiamo che recessioni ci sono sempre state e sempre ci saranno in molti vanno in confusione e non capiscono come gestire ad esempio un pack un piano di accumulo di investimento periodico e quindi si chiedono se non sarebbe il caso di vendere tutto con l'obiettivo magari proprio di ridurre le perdite in questo video ti spiegherò quali sono le due armi segrete le due strategie su cui io faccio molto affidamento quando devo continuare ad investire in un contesto di profonda incertezza come quello che stiamo vivendo con elevate probabilità di recessione per il 2023 approfondiamo tutto questo e tanto altro in questo video iniziamo la prima cosa che salta immediatamente all'occhio quando si leggono i commenti sotto i video che pubblichiamo è la diversità di opinioni molto spesso contrastanti e allo stesso input cioè allo stesso contenuto si possono avere veramente delle reazioni totalmente opposte e questo è un aspetto molto importante di pura finanza comportamentale di pura psicologia dell'investitore che approfondiremo in questo video infatti come abbiamo visto prima ci sono investitori che mettono in discussione investimenti di lungo periodo come ad esempio un pack che magari ha un obiettivo di accumulo di capitale e investimento che potrebbe durare 20 anni dall'altra parte c'è chi dice crolla tutto avanti col pack bravo Daniele questo è l'atteggiamento giusto e capiremo meglio perché tra poco prima però approfondiamo il perché in questo momento gli investitori vanno in crisi e quali sono gli elementi che oggettivamente destabilizzano gli investitori il primo indicatore che voglio condividere è questo quello del bearish sentiment cioè la tendenza ad essere pessimisti relativamente all'andamento dei mercati finanziari da parte degli investitori in questo momento siamo ai massimi siamo a dei livelli superiori alla bolla del 2001 2002 e ai livelli della grande crisi del 2007 2008 il minimo del mercato è stato toccato a marzo 2009 e in questo periodo il livello di pessimismo degli investitori era ai massimi la cosa che è interessante notare da questo grafico che chiaramente puoi scaricare gratuitamente come ormai ti abbiamo abituato da diverso tempo in modo totalmente gratuito alla fine del video e assieme a tutte le altre slide che ti presenterò bene quando arriviamo ad elevati momenti di bearishness si direbbe in inglese cioè di orsetta o pessimismo estremo perché appunto il termine orso identifica un mercato ribassista però il termine orsetta dimmi tu se ti piace perché potremmo farne una linea di maglie a me fa molto ridere vabbè torniamo seri insomma quando il livello di pessimismo sui mercati è ai massimi da qui riparte il mercato toro quindi il mercato tende a rimbalzare quando quando si generano condizioni di estremo pessimismo quello che è affascinante per una persona che studia i mercati e soprattutto studia i propri clienti e ormai in otto anni di vita di piano finanziario anche quando si chiamava ancora gp invest abbiamo avuto a che fare veramente con migliaia e migliaia di persone è che la gente sa che cosa si deve fare in qualunque contesto in questo caso nel campo degli investimenti ma poi quando si tratta di farlo va molto in difficoltà quante volte abbiamo letto ho citato la famosa frase si avido quando gli altri sono paurosi e si pauroso quando gli altri sono avidi frase celebre di warren buffett infinite volte in questo momento la gente è paurosa come dobbiamo essere noi avidi avidi lo spiego meglio per chi non ci conoscesse magari dice ma sto qua cosa dice significa che in questo momento le persone vanno in difficoltà e chi ha un atteggiamento avido nel senso che non si fa impaurire dai mercati e continua a portare avanti il suo piano di investimento può cogliere delle opportunità interessanti la prima l'abbiamo visto i mercati tendono a rimbalzare quando le condizioni sono pessime qual è l'aspetto interessante di pura finanza comportamentale ed è un argomento che a me appassiona molto ti invito a studiare autonomamente è che è questa frase di yogi berra in teoria tra la teoria e la pratica non c'è differenza in pratica c'è cioè in teoria sappiamo cosa c'è da fare essere avidi in questo momento c'è paura devo essere avido facile in pratica la gente fa molta fatica perché questo è il tema di questo video ci dobbiamo cercare in un mondo ideale se sappiamo che le cose funzionano in teoria ad applicarle no non sarebbe più facile ma come vediamo anche un pubblico di persone acculturate finanziariamente o comunque che ci prova che segue questi contenuti che si informa online non parla della casalinga di boghera che non sa niente di mercati e arriva due anni dopo alle notizie ok parliamo di persone che si informano bene anche queste persone vanno in difficoltà questo perché sono immersi in questo contesto di pessimismo e è indiscutibile youtube i media finanziari non aiutano e noi cerchiamo comunque di riportare con i nostri contenuti la razionalità nella mente dell'investitore però non sempre ci si riesce il fatto che i mercati rimbalzino quando le condizioni sono veramente pessime è confermata da questo grafico bellissimo qualche giorno fa abbiamo pubblicato un video in cui ti spiegavo l'indicatore lei leading economic indicator se te lo sei perso è questo video link in descrizione questo indicatore raggruppa 10 indicatori di natura economica finanziaria ed è un indicatore anticipatorio leading significa anticipare dell'evoluzione economica bene a livello storico si nota come i minimi dei mercati avvengono in corrispondenza dei minimi dell'indicatore lei leading economic indicator anche perché dentro a lei c'è comunque l'S&P 500 come indicatore quindi dentro ci sono anche indicatori finanziari quindi è normale questo pessimismo degli investitori vari indicatori macroeconomici stanno puntando al ribasso i mercati finanziari chiuderanno più o meno a meno 20 dall'inizio dell'anno per l'S&P 500 non tutti i mercati si sono comportati in modo uguale l'abbiamo già detto e ne riparleremo tra poco segmenti di mercato hanno retto molto meglio quindi non analizziamo solo l'S&P 500 lo riportiamo perché il principale mercato del mondo però dobbiamo capire che ci sono comunque altri mercati in cui possiamo andare a investire che hanno retto meglio questo contesto di aumento dei tassi di interesse proprio il tema dell'aumento dei tassi di interesse è un tema che mette ansia agli investitori ed è comprensibile perché il più veloce aumento dei tassi di interesse degli ultimi 40 anni per quanto riguarda la fed e ho trovato dei dati interessanti che voglio condividere in particolare ritengo che sia interessante chiedersi visto che la fed ha già iniziato a ridurre l'aumento dei tassi di interesse a dicembre infatti è aumentato di solo solo 50 punti base ok si rispetto ai 75 dei mesi precedenti possiamo dire solo 50 punti base cioè comunque c'è stato un rallentamento nei nell'aumento dei tassi di interesse bene non sappiamo quanto ce n'è ancora davanti a noi di aumenti dei tassi verosimilmente potrebbero esserci un altro paio di aumenti da 50 punti base e un altro paio di aumenti da 25 punti base il terminal rate cioè il tasso finale a cui si dovrebbe arrivare stando alle attuali stime dei mercati che sono stime e non c'è alcuna garanzia che questo avvenga dovrebbe essere attorno a 5.5 per cento dopo i tassi dovrebbero iniziare a calare una domanda che ritengo sia interessante porsi e come al solito io me la pongo e condivido le risposte i dati che trovo su questo canale è che cosa succede ai mercati all'S&P 500 dopo l'ultimo aumento dei tassi di interesse cioè quando siamo stiamo svalicando e si inizia poi la fase di riduzione dei tassi di interesse perché l'economia si è inchiodata e dobbiamo ravvivarla riducendo i tassi bene la risposta la troviamo in questo grafico che è la media delle performance dei rendimenti dell'S&P 500 dopo l'ultimo aumento dei tassi di interesse in una fase di tightening cycle cioè in un ciclo di restrizione monetaria e come vediamo si parte da 100 il grafico parte da 100 sull'asse delle X ci sono i giorni ok ed è abbastanza lineare verrebbe da dire siamo più o meno vicini al 100 per cento ma attenzione c'è un ma c'è un ma perché se ci fermiamo a guardare le medie non capiamo i casi potremmo farci fregare e infatti questa è una media average ok ma andiamo a guardare ciclo per ciclo eccolo qua bellissimo bellissimo o meglio non è poi così bello perché perché non è così bello perché ci fa vedere dei scenari contrastanti ogni colore rappresenta un ciclo economico differente ok ciclo del 2006 del 2000 del 1989 del 1980 79 73 eccetera e quello che emerge è che partendo da questa condizione quindi da quando la fed smette di aumentare i tassi di interesse e verosimilmente inizia a ridurli quindi da quando raggiungiamo il terminal rate si chiama così abbiamo degli scenari in cui i mercati salgono e degli scenari in cui i mercati calano un video si è un video no ti dico attenzione i mercati non sono l'economia non usare indicatori economici per fare previsioni sui mercati e quindi e quindi questa è una prima morale del video non modificare il tuo portafoglio non fermare un pack sulla base di indicatori economici ti ho già risposto o meglio non solo indicatori economici proprio per questa ragione perché quando andiamo ad analizzare i dati storici si vede come i mercati non sono l'economia in certi contesti i mercati hanno reagito molto bene e in altri hanno reagito meno bene potremmo dire male alla stessa condizione finanziaria quando si raggiunge il pivò il famoso pivò andando ad analizzare gli anni in cui c'è stato un incremento dell'S&P 500 nonostante ci fosse un pivò questo è avvenuto perché il mercato occupazionale era forte cioè l'economia aveva si rallentato si era già in una fase di pivò ma comunque il livello occupazionale aveva tenuto invece i casi in cui l'S&P 500 crolla dopo aver raggiunto il terminal rate sono quelli in cui il livello occupazionale viene messo in discussione c'è un calo degli occupati quindi questo è un altro tema molto importante da tenere sotto controllo ed è all'interno del lei del leading economic indicator di cui abbiamo già parlato se te lo sei perso guarda il video in descrizione cioè il livello occupazionale se il livello occupazionale tiene allora potenzialmente i mercati potrebbero rimbalzare dopo un 2022 non entusiasmante per dirla così in caso contrario potremmo potremmo dover vivere un altro anno di sofferenza quindi i prossimi mesi saranno importanti per capire l'evoluzione del mercato occupazionale e aspettiamoci ulteriore volatilità e potenzialmente un mercato che non va da nessuna parte se va bene magari lateralizza per altri sei mesi come al solito ti invito se vuoi diventare un investitore professionale efficiente ed efficace a ragionare per scenari nessuno può prevedere il futuro nessuno può avere la certezza del futuro che prevede di conseguenza non puoi prendere decisioni troppo drastiche sul tuo portafoglio anche se tu sei profondamente convinto di una tesi verifica che cosa vuol dire profondamente convinto ok perché io potrei essere profondamente convinto che la terra è piatta e sbagliarmi quindi insomma se vuoi essere un investitore che ovviamente per definizione è una persona che investe e quindi per definizione passa la maggior parte del proprio tempo a mercato per definizione se no si chiama speculatore trader ma quello è tutto un altro mestiere e non ti insegniamo qui a farlo e non lo trovi su youtube come diventare un trader profitevole questo è poco ma sicuro devi capire quindi come rimanere investito nonostante condizioni di forte incertezza nonostante condizioni in cui davanti a noi potenzialmente potrebbe esserci un altro anno difficile un altro anno di recessione le ragioni le abbiamo capite innanzitutto indicatori economici che segnalano recessione non sono garanzia di un crollo dei mercati finanziari perché i mercati anticipano sempre in altri video ti ho fatto vedere come molto spesso iniziano a rimbalzare prima di un miglioramento della situazione economica proprio perché hanno una visione in avanti nel tempo di 69 mesi anche 12 insomma sono anticipatori e secondo perché la logica ci dovrebbe spingere a concentrare le nostre attenzioni su ciò che possiamo controllare e i mercati non li possiamo controllare noi possiamo controllare la nostra mentalità con cui investiamo e la nostra pianificazione ed è l'oggetto di questo video su cui voglio concentrarmi perché al di là del sentiment dell'emotività negativa degli investitori che ha oggettive fondamenta perché lo scenario non è erosio per il 2023 noi possiamo concentrarci su un sacco di cose e avere il controllo della nostra situazione finanziaria anche se questa nel breve periodo per agenti esterni quali la recessione un crollo dei mercati potrebbe subire un vento sfavorevole ok accettiamolo come è già successo in passato molte persone l'hanno superato senza grossi problemi e come a volte ci sono dei venti favorevoli 2021 2019 alla grande anni ottimi per gli investitori a volte ci sono dei venti sfavorevoli quindi approfondiamo la prima caratteristica che devi sviluppare se vuoi diventare un investitore di successo primo la mentalità iniziare a guardare le cose con l'occhio giusto un modo per guardare le cose con l'occhio giusto ad esempio è guardare le valutazioni di mercato rapporto prezzo utili ok ne abbiamo parlato in altri video ok prendi il prezzo dell'S&P 500 lo dividi per gli utili che genera l'S&P 500 e come puoi fare rapporto prezzo utili per un titolo azionario Apple per dire puoi calcolarlo per l'intero indice S&P 500 quello che si nota è che rapporto prezzo utili da i massimi del 2020 fine 20 inizio 21 di 34 35 circa adesso è alla metà e in poco più di un anno ha perso il 26.68 per cento questo significa che vuoi investire nei mercati finanziari americani bene oggi rispetto ad un anno fa circa compri la stessa cosa a sconto del 27 per cento questa è mentalità ok vuol dire guardare le cose nel modo giusto sì i mercati sono crollati allo stesso tempo si sono generate le condizioni per avere un migliore rendimento futuro ma magari in questo momento starei pensando sì ma io ho 65 anni devo vivere del mio patrimonio accumulato non mi interessa investire capitale futuro perfetto stai lì perché tra poco risponderemo anche a questa importante considerazione anche la regola del 20 di cui abbiamo parlato in altri video che è un indicatore per capire quanto è a sconto o a premio al mercato se siamo sopra il 20 questo identifica una condizione di mercati a premio cioè a valutazioni elevate sotto al 20 mercati a sconto ok se ti interessa vedere il video in cui abbiamo spiegato questo contenuto mandaci una mail info chioccio la piano finanziaria punto it e ti inviamo il link al video bene anche qui da condizioni di estrema sopravalutazione 35 probabilmente il massimo degli ultimi di sempre praticamente degli ultimi 70 anni da quando c'è questo grafico bene adesso siamo a un 26 per cento molto più vicino a valutazioni medie perché come vedi è così importante avere la giusta mentalità quando si investe perché la stessa informazione il fatto che il mercato abbia fatto meno 20 per alcuni viene vista come una notizia pessima il mio patrimonio si è ridotto del 20 per cento per altri è un'ottima notizia perché possono comprare a sconto del 20 per cento la stessa cosa che un anno fa avrebbero pagato a un prezzo più elevato quindi approfondire queste tematiche dovrebbe farci capire come la stessa notizia è un'opportunità per alcuni ed è una sfortuna una tragedia per altri di conseguenza se questo è vero allora dobbiamo capire come far sì che una notizia sia per noi un'opportunità e non una sfortuna e questo è un tema di pianificazione finanziaria su cui arriviamo tra poco il tema della mentalità è fondamentale da approfondire perché molto spesso siamo vittima di errori comportamentali di bias cognitivi si chiamano in termine tecnico cioè che ci portano sempre a posticipare la decisione ci nascondiamo dietro agli eventi per non prendere decisioni per non esporci perché è più facile dare la colpa ai mercati che non accettare il fatto che noi non sappiamo fare la cosa e non sappiamo investire non c'è mai la condizione ideale per investire per molti investitori non è così infatti quello che succede che quando i mercati salgono le persone dicono oh no i mercati stanno crescendo aspetto che ci sia un pullback quindi uno storno dei mercati per investire non ho investo adesso perché i mercati stanno salendo no 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 aspetto che crollino per investire poi quando crollano le persone dicono no è troppo rischioso per investire oggi aspettiamo aspettiamo che i mercati rimbalzino come investe invece un investitore di successo cioè con una mentalità vincente i mercati salgono ottimo il mio patrimonio sta salendo i mercati scendono ottimo il mercato azionario è a sconto quindi vado e ne compro il più possibile quindi in altre parole compro quando va su compro quando va giù poi posso comprare un po di più posso comprare un po di meno posso comprare cose diverse quando il mercato va su o va giù posso modificare il portafoglio ma se sono investitore io continuo ad investire questo è il ruolo se no sì che si sarebbe chiamato investitore part time investitore intermittente no si chiama investitore perché investe per la maggior parte del tempo quindi per chi ha dubbi su cosa fare di un pack direi di averli sciolti no è la psicologia che frega gli investitori allo stesso evento con gli stessi dati le persone possono andare da estremi di felicità estremi di pessimismo un mercato il mercato passa da 10 a 20 festeggiamo perché abbiamo guadagnato 10 il mercato parte da 10 passa da 30 e torna a 20 siamo delusi perché abbiamo perso 10 ci focalizziamo sempre solo sulla perdita non vediamo il fatto che comunque abbiamo guadagnato 10 questo perché le persone non sono in grado di contestualizzare i guadagni all'interno di un quadro più ampio che è la propria pianificazione finanziaria si limitano a guardare dei numeri sull'home banking e non riescono a capire l'utilità di quei numeri all'interno di un piano di investimento di vita che nella maggior parte dei casi se stai guardando questo canale stai provando in modo più o meno avanzato a costruire cioè stai creando un tuo patrimonio per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e questo patrimonio te lo costruisci risparmiando e investendo risparmiando e investendo in modo periodico questo è un altro tema fondamentale non sei un gestore di capitale che come warren buffett ha 100 miliardi di dollari che deve gestire e quelli sono ok tu sei in una condizione in cui se risparmi e se investi aggiungi periodicamente capitale al tuo patrimonio quindi ogni capitale che viene investito non lo so la fetta di 500 euro di pack che vai ad investire viene investito alle condizioni di investimento del mese in cui lo investi quindi oggi investi 500 euro di pack a condizioni molto migliori rispetto ad un anno fa quindi paradossalmente la domanda se fermare il pack andava posta un anno fa quando le valutazioni erano alle stelle non adesso adesso è il momento in cui puoi avere un vantaggio competitivo perché peggiore l'andamento dei mercati migliori sono le condizioni a cui investi i soldi che vai ad investire mensilmente perché più il mercato crolla più tu stai comprando a sconto questa è matematica finanziaria il tema è che le persone tendono a ragionare di patrimonio accumulato di rendimenti del portafoglio passati e non riescono a farsi un'idea dell'evoluzione del portafoglio futura del capitale che andranno a versare nei prossimi 10 anni 15 anni dei rendimenti attesi del capitale che vanno ad investire oggi se non hai chiare queste informazioni se non sei in grado di fare una stima dei rendimenti attesi non interrompere un pack perché è la cosa peggiore che puoi fare inizia ad avere un approccio più speculativo ma se stai guardando questo video non sei nella condizione di farlo e accettalo ed essere umili è la cosa migliore per non perdere soldi quando si investe se vuoi approfondire questi temi allora ci contatti che ti possiamo aiutare ma devi trovare il modo per capire quali sono i rendimenti attesi ma nella maggior parte dei casi è molto più importante focalizzarsi sul secondo tema che è la pianificazione finanziaria i mercati finanziari sono volatili vuoi un rendimento ti devi prendere la volatilità che questo comporta non esiste rendimento senza volatilità che devi essere in grado di accettare il tema è che certa volatilità per alcune persone è troppa e assolutamente deve essere gestita ma molto spesso non la puoi gestire con il portafoglio cioè il portafoglio se vuoi che ti dia un rendimento devi lasciare che sia un po' volatile ok quindi se a te servono i soldi domani perché magari sei in pensione e devi far sì che il tuo patrimonio ti generi un reddito non puoi lavorare di volatilità del portafoglio devi lavorare di pianificazione finanziaria cioè capire quando ti servono i soldi come prelevare da un portafoglio qual è il profilo di rischio del portafoglio e qui non stiamo parlando di strategia di investimento quale titolo comprare stiamo parlando di come si muovono i soldi all'interno del tuo patrimonio ok perché magari possiamo avere più portafogli possiamo avere una strategia che ci permette anche se i mercati sono volatili di poter generare un reddito ma questa si chiama pianificazione finanziaria per alcuni è un'assoluta priorità soprattutto quando appunto hai già del patrimonio e devi iniziare a prelevare da questo patrimonio quindi magari se sei vicino all'età del pensionamento per dire per altri può non essere una priorità che per una persona che ha 20 anni ti serve la pianificazione finanziaria per avere una visione futura di dove arriverai con il tuo risparmio e i tuoi investimenti ma nelle prime fasi di creazione del tuo portafoglio vale la regola che dicevo poco fa compra qualunque cosa succeda se sono chiari questi concetti dovrebbe risultarci ovvia la risposta a questa domanda giorgio tempo fa parlavi di un possibile decennio perduto ora hai smesso di parlarne eppure che fare questo lo chiede giacomo ma anche giuseppe pone la stessa domanda che cosa succede se ci troviamo di fronte ad un decennio perso vale quello che dicevo prima la stessa notizia lo stesso evento finanziario un decennio in cui i mercati non vanno da nessuna parte come quello tra il 2000 e il 2010 per il mercato azionario americano per alcuni è un'opportunità per altri non dico sia una tragedia ma è un problema da gestire ok quindi perché è un'opportunità perché è in una fase d'accumulo perché in quei dieci anni lì i mercati non sono saliti anzi continuavano a calare in termini reali e tu potevi comprarne a go go e quindi se eri in una fase di piano d'accumulo quindi magari avevi 18 anni nel 2000 e ha iniziato ad investire i primi dieci anni non hai visto crescere il tuo patrimonio ma hai accumulato tantissime quote di strumenti finanziari che dal 2010 al 2020 sono poi esplosi e man mano che passava il tempo man mano che i mercati salivano con lo stesso valore del pac che ne compravi sempre meno quindi i primi dieci anni sono stati fondamentali un decennio perso è una grande opportunità per chi deve investire e ha orizzonti di medio lungo periodo è ovvio che se devi prelevare se una persona che andava in pensione nel 2000 doveva prelevare subito bene per queste persone è un grosso problema un decennio perso però si lavora come dicevo prima di pianificazione finanziaria secondo tema non dimentichiamoci che il decennio perso c'è stato solo per l'SP 500 e altri mercati nello stesso decennio hanno avuto rendimenti molto interessanti quindi comunque valgono le regole di diversificazione di cui parliamo spesso ci sono persone che investono con un approccio che è perdente per definizione perché è come se volessero andare sulle montagne russe godendosi solo la salita per vedere la vista di quando siamo in alto ok e poi quando dopo la grande salita ci sono i primi 20 metri dove hai lo stomaco che ti te lo trovi in gola non volessero vivere quel momento lì e se vuoi fare un giro sulle montagne russe ti becchi la salita ti becchi anche la discesa qual è il tema è che come avrai notato se vai a gardaland o nei parchi di divertimento esistono varie tipologie di montagne russe esiste il brucomela per i bambini di 3 4 anni che non ti fa vivere delle grandi oscillazioni e se lo fanno i bambini poi esistono le montagne russe di fascia media che quelle da adolescenti bambini di 10 anni e poi esistono quelle estreme dove se non ci sono tre avvitamenti e quattro giri della morte la gente non si diverte è la stessa identica cosa se vedi che i mercati ti mettono in crisi allora vai sulle montagne russe di una scala inferiore ok vuol dire che non sei adatto per le montagne russe dei grandi e non c'è niente di male non c'è niente di immorale nell'accettare il fatto che non si riesce a gestire una volatilità così alta la cosa migliore da fare è essere umili accettare la propria condizione psicologica magari studiare per migliorarsi ok perché si può migliorare nella gestione del rischio ma accettarlo però se vuoi giocare se vuoi andare sulle montagne russe devi accettare entrambe le fasi se non reggi la volatilità se non reggi il giro della morte la colpa non è delle montagne russe la colpa è tua che hai fatto il passo più lungo della gamba ed entrambi questi temi mentalità e pianificazione finanziaria si possono imparare cioè nel senso noi le insegniamo dal 2015 e sono tematiche fondamentali com'è che ci chiamiamo a piano finanziario giusto perché siamo un pochino ossessionati dalla pianificazione finanziaria te lo dice una persona che ha diverse società do da lavorare direttamente indirettamente a una ventina di persone e io devo fare molta pianificazione e ritengo sia fondamentale perché se investo dei soldi oggi ok e sto investendo in questo momento devo fare i calcoli precisi perché uno ho gli stipendi da pagare ai dipendenti due ho dei cantieri in essere che hanno delle uscite nei prossimi tre sei nove mesi e non mi voglio privare di troppa liquidità perché devo fare dei pagamenti futuri la pianificazione finanziaria è la cosa più importante su cui si deve concentrare una persona al pari di avere la giusta mentalità per reggere quando i mercati sono molto volatili e stiamo iniziando a scendere dal punto più alto delle montagne rosse se sai come utilizzare le due armi più importanti per l'investitore che sono la mentalità e la pianificazione finanziaria ottimo continua così non fermarti col tuo pac se invece non ci riesci contattaci infochiocciolapianofinanziaria.it se vuoi scaricare tutte le slide con tutti i grafici che ti ho presentato clicca il link che trovi qui in basso sulla destra è totalmente gratuito e qui in basso se te lo sei perso ti invito a riguardare il video in cui abbiamo approfondito il leading economic indicator se questo video ti ha dato valore clicca mi piace iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video ciao